Ma tu lo sai chi sono Marcello e Michele Solara? Sono due camorristi. Le nuf. Vengono tutti qua a pranzo. Ma tutti chi? Lì la... quella che mi ha turbato di più. È come se la sua intelligenza servisse a seminare gli scordi. Un'intelligenza cattiva. Come un po' il suo fascino. Secondo me lei ti detesta. O non ha capito niente di Lila. O non ha capito niente di te. Le testo è un po' il suo confine. La testo è un po' il suo confine. Il mio senso è corso. Grazie a tutti.